Se giochi il rovescio a due mani sai che la cosa più difficile soprattutto all'inizio è sentire l'uso della mano che sta sopra perché per certi versi il rovescio a due mani può essere considerato un dritto giocato con la mano che sta sopra. Per sentire l'uso di questa parte del corpo puoi palleggiare alternando un rovescio a due mani a un dritto giocato solamente con la mano che sta sopra. In questo modo prenderai confidenza con il tuo corpo imparerai ad utilizzare bene la mano che sta sopra insomma sbloccherai un po' l'articolazione che ti sarà utile poi per giocare il rovescio. E se vuoi venire in campo per ricevere dei consigli pratici per migliorare il tuo gioco nel link in biografia c'è la scheda con tutte le disponibilità della settimana.